Giovanna Muccitto, atleta dell'idrosport, nella locandina sei raffigurata, dunque un ruolo importante, quello che stai svolgendo nell'ultimo periodo proprio nell'idrosport, tredicesimo meeting, Memorial Lelio Pallante, una bella giornata per l'intero movimento. Sì, sono contenta che sono stata invitata a questo meeting e ora vedrò le gare e le bambini, sono contenta anche del percorso che sto facendo e spero di continuare così e raggiungere tutti i miei dettagli. Sì, nell'ultimo periodo insomma molto impegnata, qualche medaglia l'hai portata a casa ma sei concentrata già la prossima settimana dove gareggerai ai campionati nazionali a Roma. Sì, 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 sono contenta di questo traguardo, spero che andrà tutto bene e vedremo. Tanto lavoro, tanto allenamento alla base, alle spalle ovviamente, ma quante ore riesci ad allenarti? Diciamo che in acqua due ore al giorno e due volte a settimana pure tre e mezza e quattro ore al giorno, più la palestra quattro volte a settimana, però i sacrifici portano ai risultati, quindi sono contenta. Come è strutturata la gara della prossima settimana a Roma? La mattina ci sono le qualifiche, il pomeriggio le finali e una gara internazionale, quindi sono contenta di gareggiare insieme a persone di altre nazioni, confrontarmi con nuova gente. Grazie. 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 Grazie.